il pallone in mezzo gli ospiti si portano in vantaggio pressing di Martino e poi Capriotti la riconquista alza la testa, vede il movimento di Sartorello lo serve, controllo non dei migliori poi pallonetto, pallone che va vicino alla porta da suo amore Sartorello gliela chiede in profondità visto il numero 9, pallone è buono ed era in posizione regolare esce ancora una volta bene il portiere del Roma Queens tanti saltatori in mezzo all'area pallone basso, teso sul primo palo spazzato, lo trova poi Torcolacci che va con la conclusione in porta sfiora il palo le Roma Queens proprio a una situazione simile avevano trovato il gol del vantaggio gli ospiti cosa sceglieranno di fare? pallone battuto in mezzo sul secondo palo e anche questa volta il calcio d'angolo fradisce la formazione del Mundial pallone riconquistato a Macale che la controlla riesce anche a saltare l'uomo calcia, Macale vicino ancora una volta alla porta scivola, perde il pallone e allora il passaggio arriva al numero 7 che prova a insinuarsi in area è tutto solo contro il portiere la mette in mezzo salvata sulla linea si salva il Mundial da una possibile 3 a 0 fischia il direttore di gara parte con il tiro che sfiora la porta Mundial ancora una volta vicino con il numero va via bene e va sul fondo deve metterla in mezzo così fa raggiunge il numero 11 poi pallone spazzato fischia il direttore di gara parte il calcio d'angolo che piove sul secondo palo lo trova l'attaccante del Roma Queens che non indirizza bene fischia il direttore di gara calcio di punizione dalla zona di centrocampo pallone che passa in mezzo non lo trova nessuno alla fine si propone ancora una volta in avanti Madat per il Mundial nulla di fatto rilanciato invece no torna ancora per il Roma Queens che si trova davanti al portiere Ranieri due volte Ranieri la prima parra la seconda controlla che il pallone si è uscito si arriva termina qui l'incontro Mundial che non riesce a portare a casa i tre punti e deve concedere agli ospiti del Roma Queen Sport